eccoci qua carissimi allora c'è ancora qualcuno che sta arrivando e poi cominciamo siamo anche in diretta facebook volevo prima di ringraziarvi tutti quanti e soprattutto walter paolo e roberto alcuni che ci danno una mano nella gestione di questi corsi nell'organizzazione di questi eventi volevo chiedervi anche di condividere appunto questi eventi attraverso i social perché appunto mettiamo mettiamo a disposizione il nostro tempo soprattutto quelli che ne ha tutti ormai ne abbiamo poco però in particolare quelli che si adoperano mettono a disposizione il tempo insomma tutte le nozioni concetti che stanno imparando e quindi sarebbe buono di condividere il più possibile questi argomenti quindi attraverso i social ormai sono un mezzo incredibile per la diffusione quindi dateci una mano a condividere così possiamo come dire ricompensare da un punto di vista gli oratori e i collaboratori ed estendere soprattutto di più questi questi argomenti che riteniamo utili per fare avanzare il regno di dio e anche per dare degli strumenti in più ai credenti per affrontare questo tempo difficile allora io vi ho vi ho silenziato l'audio volevo anche dirvi che siamo in diretta facebook per cui alcuni dei vostri volti si vedranno spero non sia un problema se è un problema oscurateli mentre chiederei a paolo e a valter di riattivare i microfoni così ci ci accingiamo a cominciare questa intervista vero valter abbiamo scelto intanto benvenuto ci senti valter io sì voi noi perfettamente se sentite fate un cenno così in qualche modo perfetto e di anche loro ti sento in qualche modo eh comunichiamo Paolo ti sei già riattivato benissimo sì sì allora quindi vi ringrazio ufficialmente a nome delle terre della Bibbia che è un'associazione e anche un'agenzia di viaggio che organizza questi eventi culturali legati alla al recupero della cultura ebraica la scoperta della cultura ebraica e alle connessioni con il cristianesimo che si sono andate perse nella storia e anche ovviamente organizza dei viaggi per quello vi ho fatto vedere queste immagini di israele così non appena le frontiere riapriranno faremo come fanno quelli lì che quando esce l'iPhone il nuovo modello faremo tutti all'aeroporto ok tutti pronti a ripartire quindi così il signore ci benedirà allora faremo come vi ho detto una serie di domande a valter e questo è il primo dei tre eventi che abbiamo a dicembre tre eventi tutti e tre gratuiti la prossima settimana stessi schermi stessa ora mercoledì avremo un tour virtuale che abbiamo chiamato sulle orme di Paolo in Italia quindi Pozzuoli e Roma in particolare quindi vedremo dei dei video delle foto e con la nostra guida che è anche uno storico e li commenteremo invece fra due settimane avremo un evento legato all'alimentazione al benessere perché il signore vuole che ci prendiamo anche cura del nostro corpo che è il tempio che lui ci ha dato quindi faremo un evento con una dietista che ci darà alcune informazioni interessanti molto pratica che abbiamo bisogno di mettere in pratica durante anche la parola di Dio e la sapienza che lui ci ha dato durante la settimana non solo la domenica o il sabato allora Paolo se sei d'accordo io comincerai in questa forma di discussione con valter che che è un'intervista un'intervista dove io e te potremmo fargli delle domande le domande sono già state pubblicate sul sito avete visto sui social così anche voi potete seguire avete potuto prepararvi e seguire un po' questa conferenza questa intervista con valter che ringraziamo ancora una volta quindi Paolo se sei pronto sì e vuoi fare tu un'introduzione anche dicendo il senso di questi eventi e di queste interviste ecco sì certamente come già diversi che ci hanno seguiti negli altri corsi anche questa sera il nostro desiderio è di approfondire su tutto il soggetto del di israel riguardo di israeli riguardo ai giudei riguardo la loro storia riguardo le relazioni tra il popolo di israeli e la chiesa e ciò che è successo nei secoli e poi soprattutto nell'attualità affinché conoscendo meglio la situazione sapremo anzitutto come pregare con più intenzionalità con più un indirizzo specifico cosa vogliamo chiedere al signore cosa vogliamo accordarci col signore riguardo ad israeli ad impimento delle profezie e in seguito vogliamo anche vedere una parte pratica cosa possiamo fare verso israeli verso i giudei e anche verso la chiesa quindi un po questo e sicuramente questa sera con il professore bini avremo la possibilità di addentrare di aprire come un'introduzione al corso suo per comprendere tutto quella sua preparazione e conoscenze che ha che sicuramente possa arricchirci tutti quanti quindi possiamo iniziare benissimo grazie paolo walter allora veniamo con la prima domanda sì che è anche un po il titolo ambizioso del nostro della nostra intervista allora la chiesa primitiva e la perdita delle radici ebraiche allora abbiamo citato ci siamo avvalsi dell'aiuto della botanica quando una pianta perde le radici ahimè una serie di conseguenze sulla sua salute sulla crescita appunto della pianta stessa della pianta stessa allora cosa vuol dire per la chiesa e diciamo che le radici ebraiche e cosa sono sono state tagliate un domandone da 10 mila dollari va bene allora innanzitutto ringrazio tutti e saluto tutti col cuore anche paolo che saluto ci siamo visti tempo fa anche sul marchirolo allora beh la domanda così è enorme cioè va inevitabilmente spezzettata va inevitabilmente spezzettata allora partiamo da due presupposti positivi noi conosciamo tutti noi qua presenti conosciamo le scritture le abbiamo lette almeno un paio di volte tutti insieme no eh sono qualche anno che siamo tutti convertiti tutti cristiani siamo tutti giovani e quindi dire banalità è assurdo conosciamo le scritture conosciamo la speranza di israele e conosciamo la nostra speranza no della parousia quindi dire cose che noi conosciamo è citarla lettera ai romani voglio dire capitolo 11 è quanto meno tautologico allora andiamo invece su quello che forse conosciamo meno e credo e così domanda rispondo più domande meglio è e così parlate più voi è che quando io parlo e o immagino una radice tagliata al di là degli aspetti di botanica eccetera penso che si sia proprio eh tagliato proprio le radici della della linfa vitale e quindi noi parliamo di profezie parliamo di profezie noi cristiani eh noi cristiani sinceramente cristiani convertiti ognuno appartiene a lei propria chiesa e poi su questa cosa dovrò essere un attimino più preciso sapendo di farvi cosa grata perché parlerò di chiese e mai di chiesa non esiste una chiesa esistono le chiese ecco parte quella di gerusalemme che è una cosa parte la madre di tutte le chiese ma lasciamo stare e noi ci basiamo sui profeti il famoso dialogo tra sordi israele in modo particolare il giudeismo e soprattutto il giudeismo di oggi ma sempre il giudeismo da esdra in poi parla di torà ciò che noi pensiamo debba essere Cristo l'adempimento in Cristo per i giudei ha valore quasi vicino allo zero come ha quasi valore vicino allo zero ciò che per noi è torà perché per noi torà è quella cosa che Paolo ha detto di non fare secondo noi secondo le nostre letture nei nostri idiomi volgari italiano inglese francese tedesco giapponese è un dialogo tra sordi se i cristiani e concludo non entrano in quest'ottica di torà che non è la l'ottica precettizia della della rabbanut di oggi o di cento anni fa e quindi non entra però in torà non vive i comandi di dio come può accreditarsi con qualunque tipo di autorità anche se abbiamo lo spirito santo dio ci ha fatto rinascere di nuovo ci ha dato la potenza dei suoi carismi e dei suoi doni le nostre chiese come fanno a dialogare che parlano di profezia mentre il giudeismo parla di torà questa è una domanda che è una risposta però merita di essere approfondita in tutte le altre tematiche che avete già ampiamente accenato sul sito per le domande che mi farete ma questo è il problema un dialogo tra sordi ecco esatto eh Walter ti ringraziamo perché hai fatto una prima precisazione è molto utile a tutti quanti noi eh soprattutto in ambito protestante sicuramente parliamo di chiese ma non solo in ambito protestante ecco eh vuoi un attimo approfondire eh e anche spiegarci perché per esempio hai parlato di chiese e non di chiesa cosa dovremmo sapere come interpretare diciamo è come andare avanti come costruire questo discorso insieme questa sera sì sì chiese eh perché io ho sempre un po' po' di paura vivendo in occidente che quando si parla di chiesa si intende sempre eh tutto la riforma tutto le le il movimento evangelicale eccetera eccetera che praticamente sarebbe uscito dalla chiesa cattolica non voglio far polemiche però culturalmente allora la chiesa noi siamo più bravi perché siamo i convertiti quegli altri sono una massa di gente strana e in parte è anche vero ma la 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 chiesa la chiesa non è mai esistita gli apostoli sono dodici i Vangeli sono quattro ehm Dio ha voluto che la sua parola la lishon rishonà eh e l'ebraico diventasse anche la lingua greca e poi dopo noi abbiamo eh tutta la cultura siriaca abbiamo la cultura ehm latina anche cioè l'Evangelo si è sparso immediatamente in tutta la cattolicità in tutta l'ecumene incarnandosi in culture diverse quindi con i giudei ogni popolo che poi è diventato cristiano permettetemi questa questa forzatura i latini gli ellenisti i greci siriaci i frigidi cioè tutta sta gente qua aveva dei pregressi col popolo giudaico aveva degli incontri e degli scontri soprattutto scontri abbiamo quindi ereditato necessariamente nella santa ottica dell'Evangelo una pluralità una sinfonia di chiese qualcosa che noi dovremmo mettere di nuovo a livello sinodale tutti insieme quando parliamo di Cristo e il rapporto di Israele perché Israele sa i giudei oggi sanno che non siamo di fronte a una chiesa la chiesa evangelica no la chiesa no la chiesa cattolica no le chiese ortodosse sì noi siamo chiese noi veniamo da esperienze io sono stato evangelizzato da Elero Barzani chiesa dei fratelli ho ricevuto il battesimo nella chiesa pentecostale del pastore Rauti figlio vivo una dimensione vivo una dimensione giudeo cristiana con cristiani di varie di varie provenienze tutti giudei se uno mi dice cosa sei io sono un cristiano che appartengo quale chiese il cammino sinodale di atti 15 va recuperato se dobbiamo parlare con i giudei anche quando parliamo tra di noi però loro ci vedono chiese siamo noi che ci vediamo chiesa e questo è un problema che dobbiamo risolvere non parliamo poi a livello dottrinale e qui permettete c'è una cosa che dobbiamo dirci visto che sono tutti grandi vaccinati e credenti noi quando leggiamo l'apostolo paolo ci identifichiamo con quello che dice e va bene l'apostolo paolo aveva un vizio uno solo uno l'apostolo paolo per motivi suoi è rimasto da solo tutti i grandi uomini di dio lo hanno abbandonato e lui è morto da solo a roma quando parlava alle chiese di roma quando è scritto ai romani e non alla chiesa di roma i 42 nomi che lui cita e che alcuni quasi tutti non li aveva a parte aquile pescilla mai incontrati appartenevano a tutte le etnie ma l'apostolo paolo quando gli si metteva in dubbio l'autorità si offendeva noi cristiani ci identifichiamo molto con l'apostolo paolo e ci offendiamo quando qualcuno non la pensa come noi credo che questo sia una cosa da eliminare se è possibile perché io devo essere rispettoso io paolo di walter di ogni denominazione che lo spirito santo ha voluto sulla terra se non l'avrebbe cancellata e parlando con i giudei che ci vedono in come chiese dobbiamo recuperare ciò questa identità essere fieri di ognuno della propria identità perché parliamo con gente che ci vede non divisi non divisi ma in sinfonia ecco sì allora visto che visto che hai fatto qualche cenno anche alla tua testimonianza walter possiamo farti una domanda personale per ciò che riguarda ciò che riguarda le tue origini hanno anche qualcosa di ebraico cioè dei parenti e anche se ci vuoi dire magari qualcosa brevissima sulla tua formazione così per entrare anche in una dimensione di fraternità sì 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 beh vabbè dal mio cognome la mia una famiglia di origine levita perso eh ogni collegamento voi sapete la legge no del matriarcato nel momento in cui mio nonno ha sposato una donna ortodossa cristiano ortodossa e quindi da lì però io ho sempre mantenuto per riti di casa per fin da piccolo questo legame forte e questo amore che avete anche voi per quello io vi voglio un bene infinito perché lo sento nel mio sangue oltre che nel cuore chiamati israele e quindi io sono onorato della di tutti voi del vostro amore poi 40 anni fa ho appena compiuto il quarantesimo anno e naziano della chiesa dei fratelli di modena di una delle comunità c'era appena stata una un'ennesima separazione tra via venturi e via peretti e le robazzani venne nel negozio da me e mi portò il messaggio di cristo cristo è morto per i tuoi peccati io sono stato con lui a parlare con lui tante volte ero ero giovane avevo 18 19 anni poi a 20 anni ho dato la mia vita al signore durante una riunione di preghiera e non volevo neanche saperne di cristo perché vi potete immaginare vi potete immaginare è solo che durante una riunione di preghiera con persone che sono tutt'ora vive hanno pregato per me io non lo sapevo e ho trattato i signori poi sei mesi dopo ho detto ma sto qui in questa chiesa era formigine all'epoca voi sapete che formigine chi ha diciamo la mia età che mi conosce conosce la realtà di formigine voce della bibbia di hcg vivo società radio mondiale vero paul tu sì 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 cose cose che tu sai e quindi e quindi io dopo un piccolissimo transito da formigine dove conobi pietro bolognesi e come gli dico tutte le volte che l'incontro ho cominciato a studiare teologia perché volevo diventare bravo come te no nel senso che mi piaceva la sua no davvero ma lo sa l'ho sempre detto e dopo per motivi diciamo che ognuno il signore lo manda dove vuole dove vuole perché questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti ho incontrato a sassuolo forse perché era più vicino di me come età dieci anni più di me eccetera il figlio di rauti del fratello rauti della chiesa di crotone che era appena uscito dalle adi aveva iniziato questa testimonianza sassuolo e lì ho cominciato a vivere la mia appartenenza sono stato per quattro cinque anni sei anni sette anni poi ho capito che il signore mi stava dando la ma non è che l'ho capito io ma l'hanno detto loro tutti il ministero più brutto che c'è nella chiesa ed è proprio il ministero brutto che è quello che veramente ti dà dio qualunque so sia ognuno pensi al proprio perché non lo vuoi fare lo fai con poca gioia però visto che ti porta lui la gloria va lui e anche questa è un'esperienza che sapete che è vero mi ha dato da fare il didascalo lo dico la greca perché in italiano non mi piace che sarebbe dottore il dottore è medico quando mi vado a visitare gli altri sono didascali perché dico questo grazie per scomporci e per anche queste parole sia quelle greche che quelle ebraiche perché noi non avendo questo ministero didascali non è terribile grazie a dio c'è la nippo no è terribile perché perché quando parli ti guardano allora dai fastidio ai pastori perché il pastore deve fare il pastore deve condurre tutti invece il didascolo è quello lo schifiltoso che dice no questa parola non c'è nella bimbia c'è quella lì allora quando glielo fai tre volte ti mettono da parma fanno bene poi i primi nemici che hai sono quelli di casa mogli figli e quant'altro vivi una specie di aseità di aseità di aseità con la quale poi dice beh allora si vede che devo macinare bimbi 8 9 10 ore al giorno e parlare con dio direttamente perché tanto non ti guarda nessuno il ministero è una croce visto che in italia non c'era nessuna testimonianza accademica se non i valdesi no con titoli di un certo tipo io abitavo abitavo molto lontano da roma e lavoravo avevo 25 24 25 anni ho detto io devo studiare gli unici che mi davano una formazione di un certo tipo pur sapendo che non sono mai stato cattolico mai never never questo lo dico perché purtroppo tanti dice ma tu hai studiato io ho studiato dai preti ho studiato dai preti ho fatto ho accelerato sei anni tre anni di lice master degree cinque anni di pcd a roma il dottorato in teologia in teologia biblica in teologia dogmatica poi ho fatto cinque anni del pcd di bioetica e poi non contento mi sono fatto anche cinque anni civili di storia della chiesa ma di storia in generale con specializzazione della chiesa delle origini facendo una tesi su la chiesa bizantina di Ravenna va bene lasciamo stare torno a casa sono un fantasma allora praticamente ci riuniamo nelle case con chi viene come provenienza etnica diciamo di me siamo 14 15 famiglie brutta parola lo sapete che a me non piace questa parola diciamo chiese domestiche però diciamo che quando si fa il culto si fa in ebraico eccetera 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 si usa la lingua della scrittura eccetera quindi questa è stata un po' la mia testimonianza però io ringrazio tutti in Italia però per poter studiare devi studiare lì ecco perché quando Pietro Lamanna Uomini Nuovi la buonanima dell'avvocato Felice Memoria mi ha detto vuoi darci una mano per provare a vedere se possiamo creare un po' l'università di un certo tipo lo sto dando e spero che ormai si sia arrivati a Dama per riuscire a dare in Italia anche questo tipo di formazione perché è mancata a me è mancata a me poi nessuno mi ha indottrinato sapevano chi ero io ho avuto professori ebrei ortodossi tantissimi protestanti evangelici no ma diciamo ecco quindi io mi sono formato in Italia per avere una patente di didascolo per dire meno eresie possibili perché dietro ogni cristiano c'è un'eresia o più di una cerco di dirne il meno possibili meno possibili però ne dico anch'io grazie Beppe ti ringraziamo di questa di questa bella illustrazione sul dottorato ora sappiamo che didascolo 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 ora sappiamo cosa si prova e quindi chi 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 aspira veramente deve sapere a cosa va incontro bene oltretutto in un certo ambiente di chiese la cultura non era così ben vista fino a qualche decennio fa quindi suppongo che sia stato ancora più complicato va bene però sei qua eh ti ringraziamo per il percorso che hai fatto diciamo perché ci torna utile no torna utile al regno come abbiamo detto prima allora io eh a questo punto ritornerei un po' sul tema no? Sì scusate è stato un po' lungo no 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 è stato anche piacevole perché è bello anche il tuo accento comunque sia allora tu hai fatto un'affermazione dice gli apostoli erano dodici allora vogliamo tornare qualche centinaia di anni indietro nel tempo torniamo a questi dodici apostoli che eh seguono il Messia e e credono credono in lui lì comincia la grande avventura della chiesa no? Una chiesa non possiamo dire che era una chiesa cristiana ovviamente cosa cosa succede a un certo punto cioè i romani la persecuzione la distruzione il cambio del nome della città di Gerusalemme le persecuzioni gli ebrei o quegli ebrei credenti messianici no? che fine fanno cosa succede anche qui sono grandi temi eh però abbiamo capito che hai il dono della sintesi e tieni il focus no la insomma allora eh dico alcune pennellate che possono essere eh stimolo per lavorarci eventualmente ancora e ognuno ha un tanta cultura biblica la prima cosa da dire è che eh diciamo eh noi ci vediamo come c'è scritto ecclesia ecclesia nel nuovo testamento e siamo per l'amor di Dio i giudei ci vedevano come nozzerim nozzerim quindi attenti a questo primo equivoco che poi porterà ad atti 15 alla chiesa alla chiesa di Giacomo il fratello di Gesù non Pietro non Paolo una gentilmente scusa se ti interrompo facci anche le traduzioni allora nozzerim è intraducibile nazareni consacrati noi non lo sappiamo cosa voglia dire di fatto nozzerim siamo noi finito finito cioè noi ci chiamiamo cristiani è dispregiativo è nozzerim attenti adesso questo è il passaggio epocale no il grande equivoco col quale poi leggiamo male anche la lettera ai romani secondo l'idea di Giacomo secondo l'idea primigenia c'erano tanti etnici tanti Goim che volevano entrare nel patto di Abramo non sto parlando del giudeismo sto parlando del patto di Abramo e entravano attraverso dei gruppi assumendo l'identità del gruppo col quale entravano perché il giudeismo era eterogeneo e si ritrovavano automaticamente ebrei è successo anche ai nostri Goim diventando nozzerim cioè credendo nel Moshe di Israele prendendo Mikveh che noi chiamiamo battesimo e all'inizio c'erano anche circoncisioni e quant'altro automaticamente credendo in Gesù che era la porta per fargli entrare nella tra virgolette salvesa erano per noi chiesa ma per i giudei erano nozzerim prima erano dei timorati poi diventano proseliti e diventano Amisrael così li riceveva li capiva Giacomo così non li capiva Paolo perché Paolo alle chiese di idioma greco quelle fondate da lui con lacrime sangue e col parto come corì non diceva pur facendoli entrare nella grande famiglia dei figli di Abramo ebrei giudei diceva non circoncisione non shabbat non kashrut ma solo Mikveh quando lo vengono a sapere a Gerusalemme succede un problema che sarà oggetto dei tre incontri che faremo ecco ma vi ho voluto dare l'antefatto perché c'era un equivoco vi faccio un esempio se voi andate a Venezia parlo di amici cari ho studiato in quella yeshiva e posso citarli e li saluto caramente se voi andate a Venezia e vi avvicinate alle sacre scritture nella yeshiva dei Bet Kavad sembra di vedere i primi cristiani delle origini voi vi avvicinate a Dio loro vi danno la mediazione della grazia diventando giudei circoncisione shabbat tefilot kashrut voi diventate giudei ma siete Bet Kavad e quando andate in Israele e vi danno il passaporto siete israeliani cittadinanza siete ebrei però siete un po' eretici perché siete Bet Kavad perché credono tante cose strane che il loro messia si rincarna però siete diventati ebrei Bet Kavad era così anche per noi voi vi diventavate giudei ma eravate Nazarà Nozrim il problema sorge col discorso della Milà della circoncisione con la kashrut e sullo shabbat ecco quindi e concludo dei goim che entrano dentro e non fanno shabbat non fanno kashrut e non sono e non fanno berit milà la circoncisione fanno solo mikveh ma che ebrei sono non c'è più niente a che fare con voi e in quegli anni lì succede quello che hai detto l'anno 70 ma Paolo ha già tra virgolette permettetemi il termine bonificato questo problema perché lui le sue chiese le aveva già attenti già strutturati in modo sinagogale il collegio degli anziani il collegio degli anziani il collegio dei rabbini convertiti e soprattutto li aveva liberati da quegli altri tre pesi che ben conosciamo dalle scrittore il passaggio è stato quello loro credevano che fossimo noi a diventare ebrei noi pensiamo che debbano essere loro a diventare cristiani questo equivoco c'è ancora sì esatto vai pure Paolo allora una delle domande che abbiamo preparato in anticipo era di parlarci dei padri della chiesa chi sono e di quale periodo storico si fa riferimento i padri della chiesa bisogna vedere in che contesto perché normalmente dal punto di vista rigidamente teologico i padri della chiesa sono quelli che hanno fatto i primi concili sui quali basiamo la nostra fede trinitaria non sono i padri attenzione non sono i padri né della dottrina né tantomeno né tantomeno quelli che hanno scritto che meglio ancora parlavano e si scriveva su di loro perché ogni padre della chiesa ha detto delle eresie ogni padre della chiesa per esempio aveva un millinarismo di un certo tipo ogni padre della chiesa ha avuto dei problemi i veri padri della chiesa sono quelli che storicamente succedevano a questi dodici apostoli e quando si è trattato di dire una volta per tutto se Gesù era Dio come il padre o no si sono ritrovati si sono presi a schiaffi esattamente come gli apostoli nel primo concilio a Gerusalemme e queste chiese questo cammino sinodale hanno deciso per una volta per sempre di parlare di padre figlio e spirito santo tutte cose che c'erano nella Bibbia l'unica grosso problema è che usavano una filosofia alcune filosofie possono usate dai padri della chiesa possono essere compatibili con il cristianesimo altre no per esempio l'unica parola non biblica del concilio di Nicea è la parola ausia sostanza presa dalla dalla filosofia ovviamente diciamo greca in modo particolare stoica già usata però anche da Platone eccetera l'ausia è la sostanza per dire che Gesù è della stessa natura sostanza noi usiamo ausia unica parola non biblica è legittimo usarla o no per l'intelligenza della fede sì però già da quella parola c'è un problema perché qualche concilio dopo questa parola viene considerata come prosopon come persona e nasce la grande eresia di Nestorio cioè due cristi voglio dire i padri della chiesa sono le nostre colonne della dottrina ma singolarmente tutti hanno avuto dei problemi non esiste l'infallibilità esiste solo la certezza della verità quando la chiesa è sinodale quando le persone che hanno il carisma dell'anzianato del presbiterato il zaken e zakenim sono legittimati da una innanzitutto dall'autorevolezza della loro vita della loro parole dalla loro dottrina ma anche da quella che noi chiamiamo teologicamente una successione apostolica confermata però sono anche gli altri che ti accettano Paolo quanto ha dovuto lottare lui che ha parlato con Cristo ed era il dodicesimo apostolo con chi non lo considerava nemmeno apostolo e considerava apostolo Apollo questo problema l'abbiamo anche nei padri ma i padri hanno scritto in greco in siriaco in latino ogni padre ha avuto dei problemi dottrinali non esiste un padre perfetto non esiste però noi li dobbiamo vedere come una testimonianza storica storica per ciò che le loro chiese esprimevano in quel periodo lì cioè dal primo al quarto quinto secolo dopo si entra in un'altra epoca benissimo Walter benissimo anche perché con con la risposta che ci hai dato poco fa ci hai riportato molto chiaramente al capitolo quindici degli atti degli apostoli quindi la conferenza di Gerusalemme ce l'hai spiegata anche in termini diversi da come siamo abituati a leggerli ce la stai un pochettino aprendo questa discussione in un certo modo sembra anche di essere lì in mezzo a questi temi che diventano poi attuali prima di andare avanti volevo un attimo ricordarti ricordarci tutti quanti noi il macro tema di questo incontro e dei corsi che facciamo sai viaggiando in Israele io sono stato circa 15 volte in Israele accompagnando ogni volta dei gruppi lo stesso ha fatto Paolo Paolo Scheffer non l'apostolo e tanti altri pastori missionari che collaborano con le terre della Bibbia allora cosa abbiamo visto portando questi gruppi perché l'idea non è solo fare un viaggio turistico no ovviamente fare esperienza fare un'esperienza sì archeologica storica biblica spirituale perché no abbiamo visto tante esperienze situazioni diverse tante sfaccettature che ci sono tra le chiese tante non voglio dire dottrine diverse però tante interpretazioni diverse quindi per esempio nello stesso bus una guida un pastore diciamo un insegnante leggendo la Bibbia illustrava un passo come lo concepiva lui appunto nello stesso bus un altro pastore illustrava lo stesso passaggio in modo diverso quindi vedi quanto pluralismo c'è diciamo quanta ricchezza mettiamola così allora abbiamo visto però anche tanto fanatismo se possiamo dirlo tanto amore quasi troppo senza cognizione senza logica per il popolo ebraico però abbiamo visto anche tanto non vorrei dire antisemitismo però tanta distanza loro sono ebrei noi siamo gentili ormai non siamo più connessi allora cosa stiamo cercando di fare con questi incontri valendoci anche della tua esperienza di capire come il Signore ci sta guidando a riconnetterci con queste radici con questa con le nostre radici che sono innestate lì sicuramente abbiamo visto anche in altri corsi che abbiamo già fatto si è concluso uno lunedì sicuramente queste radici sono state tagliate ma a volte anche in maniera brusca lo abbiamo visto nei corsi adesso sembrerebbe che c'è un interesse nel mondo intero e anche un po' qua in Italia di riconnettersi quindi il macro tema è la posizione che che vorremmo fosse chiara ma anche moderata e biblica per per restare nella parola posso dire certo allora parliamoci chiaro mi raccomando un dogma i cristiani non devono e non possono giudaizzare chiaro il concetto? sì proprio un pilastro questo è un pilone di cemento armato Paolo è chiaro nessuna tipo di quel discorso lì nessun tipo è biblicamente scorretto oltretutto non è neanche richiesto mi raccomando sì seconda cosa seconda cosa parliamo di esperienza e do la mia esperienza seconda cosa altrettanto importante non c'è problemi di 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 dialogo minestroni sincretismi è meglio pensare come tanti hai detto bene antisemiti che amano gli ebrei morti e fanno la 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 quando si parla degli ebrei morti la sua poverini possono gli stessi che per esempio vanno alle marce del 25 aprile con la bandiera palestinese quindi c'è un problema poi perché l'ebreo vivo fa schifo l'ebreo morto piace questo è il problema e dobbiamo dirlo gli ebrei lo sanno quindi noi come chiese abbiamo già preso una scelta di amore verso Israele vero o non è vero ecco poi possiamo non condividere la politica di Netanyahu o di un altro però Israele oggi esiste non è più una roba che nella Bibbia nella storia è vero o non è vero quindi quindi dobbiamo essere prudenti quando facciamo discorsi anche politici con Israele perché loro lo sanno che noi queste cose le sappiamo allora questi sono i due cardini rispondo quello che guarda il giudeo in noi che sanno diciamo l'Antico Testamento quello che per noi loro chiamano Tanakh per noi l'Antico Testamento sapete qual è la cosa che li fa tacere ma in maniera bella quando fai tacere un ebreo in maniera bella che lui benedice Dio quando ti vede adempiere i comandi che lui magari non riesce a fare e ti dice ma perché fai così ma te non è richiesto tu sei un goi e tu gli dici lo so ma io voglio stare sotto il gioco di un ebreo che è Cristo è il mio rav tu hai il tuo rav io ho il mio rav e quindi faccio i mitzvot e lui puoi credere a Batman che viene agli alieni all'ebreo non frega guarda scusate è brutto dire siamo tra fratelli non frega niente quello che credi perché già tra di loro oh ma vi rendete conto che una delle comunità più importanti del giudeismo mondiale crede che il proprio rav di riferimento si rincarna in ogni generazione cioè veramente ci mancano quelli con il naso a trombetta e siamo a posto allora il problema non è a cosa crediamo per noi cristiani quello che crediamo è come vivi se tu vuoi far breccia una santa breccia finalmente con il popolo di Israele devi vivere i mitzvot quelli che Gesù ci dice di vivere in Matteo capitolo 5 Matteo capitolo 6 Matteo capitolo 7 io ho una sfizia di tutti i detti di Cristo che se li mettiamo nei pirkevot dei giudei salta per aria e diventano cristiani ma cristiani nel senso rimanendo ebrei seguono il rabbino Gesù ecco perché io studio quella roba lì perché quando la fai rimangono a bocca aperta li stordisci altro che le profezie di Isaia che loro ti dicono che non è vero e tu hai un altro e tu taci perché l'hanno scritto loro io sono stanco di farmi zittire da chi ha scritto la Bibbia allora sto zitto scusa scusa se ti interrompo possiamo dire che così facendo come hai detto tu li provochiamo a gelosia ah bello sì 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 bello è molto biblico quello che hai detto molto vero amén perché appunto queste queste frasi vanno agganciate un pochettino per capirci quindi questo è il modo o potrebbe essere il modo questo è il modo un modo in cui Paolo ci suggerisce di operare nei confronti questa è la posizione che noi dobbiamo provocarli a gelosia in questo senso ma ti faccio sono d'accordo ma ti faccio un esempio adesso vi faccio ridere perché è bello ridere perché siamo allegri nel Signore ascolta se noi non preghiamo dopo mangiato non facciamo la preghiera tante volte per distaccarci dai cattolici non facciamo delle cose che perché le fanno i cattolici mentre loro si aspetterebbero da noi come cristiani un certo un certo tipo di pietas dopo succede quello che è successo a un mio amico rabbino che è andato ospite a Roma da una casa di ebrei romani che vive lì da 2200 anni e che quando era l'orario dell'accensione dei lumi di Shabbat il venerdì la signora non li accendeva e allora il rabbino scandalizzato che veniva dagli Stati Uniti ha detto ma perché non ho Shabbat dice non li accendi sapete cosa gli ha detto la signora ebrea di Roma fa no è roba cattolica accendere le candele è roba cattolica e non ha acceso le candele di Shabbat perché lo fanno romi cattolici non è che ha pensato che le due candele che mettono sull'altare sono le candele dei Neuro Shabbat che le donne del ghetto e di Trastevere accendevano proprio il contrario noi cristiani facciamo uguale e questo non va bene a me piace che uno sia anticattolico per l'amor di Dio a me lo dite ma con intericepio ma anti chi io il mio amore hai ragione gelosia dobbiamo essere dobbiamo muovere la gelosia quindi si fa una bella berakha magari anche in ebraico quando si va da loro si va in bagno prima di mangiare ci si lava come ci ha insegnato la nonna gli diciamo che facciamo la nettilatia daim e poi dopo quando è venerdì che è l'orario della preghiera si va al cotto e alla piedi a pregare ovviamente anche se volete ci sono tre invocazioni a Cristo nel filo ebraico e tu lo fai perché stai pregando Cristo dopo due volte che fai così rimangono basiti credetemi mi è capitato tantissime volte grazie Walter perché ci stai dando tanti spunti ma ci chiedi anche uno uno sforzo multiculturale cioè di uscire dalla nostra cultura d'altronde d'altronde se ci pensi quando mi veniva in mente quando Dio ha fatto scendere quel lenzuolo è proprio quello che chiedeva a Pietro no? cioè voglio costruire una chiesa un'opera più grande cioè ti mando il lenzuolo perché devi uscire dai tuoi dal tuo modo no? ogni anno rappresentava un goi una rassa di goim lì c'erano tutti i siriani gli alessandrini i romanci erano tutti esatto grazie e infatti dopo Cornelio l'ha chiamato e lo spirito santo l'aveva già battezzato sì è vero eh era arrivato prima Dio sì sì prima Dio di Pietro sì è verissimo allora Walter mentre ci prepariamo alla prossima domanda io vorrei un attimo fare vedere perché tu hai accennato dobbiamo fare un attimo di pubblicità detto così è brutto però una pubblicità positiva allora tu hai accennato questi tre incontri che faremo insieme dal primo di febbraio saranno tre incontri in un corso noi l'abbiamo chiamato corso dal titolo omonimo di questa intervista cioè la chiesa primitiva e la perdita delle radici ebraiche sarà esattamente questo quindi riposati un attimo mentre io condivido lo schermo e magari Paolo ci avviamo poi verso la conclusione se abbiamo qualche minuto magari raccogliamo due tre domande allora se andate nel nostro sito lo vedete? sì ecco nel nostro sito le terredellabibbia.it ci sono una serie di corsi quello che terrà Walter Binni è esattamente questo la chiesa primitiva la perdita delle radici ebraiche qui trovate un minimo di presentazione i titoli sono stati proposti da lui i titoli delle lezioni cioè la chiesa di Giacomo il primo incontro il concilio di Gerusalemme sconfitta giudeo cristiano compromesso illuminante ecco abbiamo fatto un accenno prima e la terza lezione le chiese di Paolo alaka e agadà per i goim convertiti ecco queste lezioni cominceranno il primo febbraio quindi 1, 8 e 15 febbraio si terranno su Zoom non sono aperte a tutti queste sono solo per chi vuole approfondire ci sarà del tempo anche per fare delle domande e si terranno il lunedì qui su Zoom quindi per chi vuole deve assolutamente iscriversi come abbiamo fatto anche per gli altri corsi che molti di voi state frequentando quindi avete la possibilità di approfondire questi temi alcuni di voi non riescono a seguire il lunedì alle 8 però poi possono seguire le registrazioni come e poi rivederle con calma quindi c'è la possibilità anche in questo senso di di essere di far parte della classe allora Paolo tu che conosci bene 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 la chiesa italiana perché sei missionario qua in Italia da 40 anni possiamo dire nei viste di tutti i colori allora ti chiediamo anche a te diciamo una un feedback cioè di cosa di come la chiesa sta andando dove dovrebbe andare un piccolo intervento in questo senso sì quindi avendo seguito Walter tutta la sua esperienza di formazione accademica molto molto vasto e molto bello non solo Walter tu come conosci tutta la realtà della chiesa italiana sicuramente sull'argomento di Israele passato presente e prossimo futuro diciamo la chiesa è stata abbastanza posso dire poco impegnato in certe in certe aree molto indifferente in altre aree aveva un certo un timore un forte timore di entrare in un ambiente dove non si sentivano neanche preparati per adentrare ma poi anche di entrare e trovare tutti gli estremismi di risseguito ed è proprio questa realtà della chiesa italiana dove noi stiamo cercando di operare per l'amore del popolo del Signore qui ma anche credendo che comunque sia c'è qualche parte che la chiesa le chiese devono svolgere a riguardo ad Israele a riguardo al popolo giudeo tu che pensi di questo tu qual è la tua esperienza di questo io sì innanzitutto come la conosci tu la realtà italiana non la conosce io sicuramente non la conosco questo ma lo dico perché sappiamo la tua opera di decenni io l'unica cosa che posso dire è che ho sempre sentito speculare sempre con buon cuore sul problema di Israele ah è sostituito la chiesa ha sostituito Israele no non ha sostituito sono un po' i discorsi che facciamo noi tra di noi sui grandi temi dottrinali ecco quello sì pochi fatti perché comunque risentiamo di questa cappa opprimente della cultura post-cattolica neanche cattolica post-cattolica post-cattolica quindi io ho sempre sentito fare delle e poi ci sono invece delle cose meravigliose forse anche troppo profetiche di mi riferisco anche a giovani studenti che ho avuto adesso ormai sono ormai dei colleghi che invece verso Israele ci hanno messo la faccia sono andati là hanno lavorato l'opera dei vari rozzini insomma sono cose meravigliose incredibili stupende fantastiche fantastiche quindi non c'è equilibrio sì ho troppe chiacchiere la chiesa ha sostituito Israele non è sostituito preghiamo per Israele si devono convertire i profeti andiamo là evangelizziamo è ok io sono venuto con quelle idee lì 40 anni fa eh l'altra bella cosa che dicevi che dicevi anche tu Alessandro c'era poco amore per lo studio perché se uno avesse studiato un po' di più queste cose che ho detto molto semplici forse anche banali potevamo risparmiare 40 anni di incomprensioni e poi d'altra parte invece vedo degli slanci meravigliosi che a livello europeo solo qualche forse qualche gruppo americano di ebrei misiani che è andato tanto oltre ma sono casi sporadici credo ci voglia un pochino più di equilibrio l'equilibrio però si ha soltanto a mio avviso e non è uno uno sponsor che faccio se si fa come fate voi andare là avere esperienze Be'erez in Israele portare dei credenti là per far capire che noi abbiamo Israele abbiamo l'amore o è l'Israele nel nostro cuore e se c'è bisogno di dare una mano diamo una mano c'è ad esempio adesso c'è il discorso della pandemia eccetera eccetera sul mio sito quello di Teologia 1 mi arrivano sempre delle richieste di aiuto in ebraico perché sanno che i miei 1370 follower che abbiamo con questo gruppo parliamo amiamo Israele e vengono a fare la pubblicità sul mio canale persone malate persone distrofiche persone capite cosa voglio dire loro si attendono a qualcosa da noi perché oltretutto Gesù ce l'ha anche comandato perché Matteo 24 e 25 è proprio un atto di amore che noi dobbiamo fare verso i piccoli fratelli che sono i suoi quindi togliamo lo squilibrio il lavoro che state facendo è importante perché toglie questo squilibrio o solo dottrinale noi abbiamo sostituito Israele Israele non ha più ragione di esistere oppure magari adesso altri che 100 200 300 che fanno cose ancora più grandi di quello che forse potremmo umanamente fare ho citato alcuni nomi prima non so se sbaglio Paul dimmi tu no buono buonissimo sì sì grazie Walter anzi tu dai una conferma per noi di proseguire perché questo è proprio quello che abbiamo in cuore che tutto è iniziato con i viaggi poi sì 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 e poi in seguito diciamo la consapevolezza che in qualche modo in qualche misura usando anche diciamo avendo anche l'aiuto tuo e di altre no di poter approfondire quanto più possibile sapendo che poi comunque per noi per molti di noi si deve fare a step piccoli passi non possiamo subito andare troppo distanti che ci vuole un tempo di entrare e comprendere e poi un suggerimento che do ma è un suggerimento esistono dei sussidi gratis su internet sul sito www.torah.it della comunità ebraica di Roma quando si va in Israele credetemi imparare 100 200 300 frasi una frase al giorno in ebraico vi rendi indipendenti superare il muro della lingua Paul tu sei maestro in questo tu sei maestro in questo sì sì giusto non muore nessuno non ci si chiede una laurea in lingue semitiche si crede di imparare quelle 20 frasi 50 frasi quelle mille parole si chiama il corso che in tre mesi uno si prepara al viaggio si parla dell'autobus dove la sinagoga dove posso mangiare al ristorante quello che si fa quando si va in Francia e non si sa il francese eccomi sì in Germania cioè non ci chiede non dobbiamo fare tutti i biblisti e poi imparando a leggere quando poi torniamo a casa siamo benedetti perché leggiamo il testo in ebraico bello sì noi infatti noi stiamo cercando di salutare quelli che vengono a fare i corsi quando sono diciamo giudei noi cerchiamo di salutare con qualche brano della scrittura in ebraico quindi abbiamo già imparato due o tre non viene lernia voglio dire è un bel modo anche per prepararsi Walter potremmo stupirti con effetti speciali guarda ma io lo so che voi siete delle spie del Mossad io lo so pensa che lunedì abbiamo imparato un'intera frase Baruch Abba Beshem Adonai Amen benvenuti nel nome del benvenuto colui che viene nel nome del Signore Amen però vedi che suona meglio Baruch Abba Beshem Adonai poi se vuoi fare se vuoi stupire ancora di più e sono di origine Ashkenaz dici Baruch Abba Beshem Adonai ci metti l'O diventa ancora meglio troppo se fardita no davvero parli scherzi sono tentativi importanti adesso andiamo anche nei dialetti wow bellissimo no 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 l'ebraismo Ashkenazita e la colonna Walter allora la domanda di rito che facciamo allora perché questi fratelli che sono qua con noi stasera e quelli che sono su Facebook e ci stanno seguendo dovrebbero partecipare al corso a queste tre lezioni che faremo insieme a febbraio questa è una domanda di di marketing cattivissima perché mi annoio solo io ad ascoltarmi no eh ma dovrebbero farlo io lo farei cioè io non lo farei per me però se uno ci vuol fare del male è giusto per chiarire la chiesa di Giacomo cos'è la chiesa madre la chiesa di Giacomo perché di Giacomo era una specie di diciamo califato califato di discendenza di sangue forse all'inizio sì poi è successo qualcosa e lo spirito santo ha modificato alcune cose quindi conoscere un pochino la nostra chiesa madre da dove nasciamo perché noi è vero che nasciamo dal sangue di Cristo e dal costato di Cristo e tutto però la prima chiesa è stata è là no la prima Pentecoste questo lo sappiamo tutti quindi conoscere un po' questa questa modificazione genetica da chiesa di sangue a chiesa di spirito credo sia importante poi il concilio di Gesù è per capire che si parla sempre di chiese e mai di chiesa e quindi quella che sembrerebbe una sconfitta giacomita giudeo-cristiana in realtà potrebbe rivelarsi invece un santo compromesso forse l'unico santo compromesso in genere il compromesso non è buono e di riuscire a camminare con tutti e due i piedi poi alla fine abbiamo camminato solo col piede etnico-crist etnico e recuperare anche quell'altro sarebbe un'ottima cosa come i due polmoni no? ecco e quindi chiarire questa cosa che poi fa bene anche la nostra vita spirituale anche se non esiste più di fatto la chiesa delle origini e poi le chiese di Paolo ecco qui invece diventa molto interessante secondo me l'ultima però è chiaro che prima devo fare le premesse le due premesse è che la Gada è quello che tu devi fare e la Gada è il narrato è la teologia è il racconto c'è questa frase di esodo terrificante faremo e ascolteremo noi cristiani prima vogliamo ascoltare poi vogliamo fare e non sto parlando dei comandi dell'Antico Testamento sto parlando dei comandi del Nuovo Testamento perché noi non facciamo neanche quelli e allora recuperare l'aspetto normativo lattico di Ravio Yeshua che per noi è Dio incarnato boh credo che ci faccia bene anche nel cammino di santificazione senza il quale sarà dura vedere Dio ecco diciamo sarà dura poi Dio ci vuol bene lo stesso però è un po' dura non ci fa bene all'anima ecco quindi ecco quelli sono i tre temi due premesse e una conclusione per l'utilità della nostra vita grazie c'era una domanda però al quale avevo detto che volevo rispondere sì c'era una domanda e c'è anche abbiamo anche il pastore Luca Marino che salutiamo il pastore Biagio Narducci Roberto e tanti tanti amici veramente che ci seguono ci stanno seguendo nei corsi quindi Walter se per te va bene ma anche in modo sintetico io darei spazio tre domande Massimo e poi ci salutiamo perché se no facciamo il corso qua già stasera poi no 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 non parlo del corso io non ho problemi chiudete quando volete tanto io sono vedete in questa finta biblioteca però in realtà devo studiare fino a tardi eh ah ok allora Massimo tre domande allora tu dicevi che c'era una domanda già segnalata nella chat sì no è una domanda molto bella perché dice nonostante la chiesa primitiva eh fosse radicale osservante eccetera come è potuto insinuarsi il culto alla Madonna ovvero Mariano risposta perché la domanda di Daniele ecco sì sì Daniele Ruth perché abbiamo tagliato le radici eh giudaiche perché se noi le avessimo mantenute avremmo scoperto che la madre di Dio madre di Dio nel Vangelo degli Ebrei che è fuori canone è lo Spirito Santo la Ruach chiaro la Ruach in ebraico è femminile e in aramaico anche Ruach e quindi Gesù quando parlava dello Spirito Santo si riferiva lei sempre al femminile e ha sempre definito lo Spirito Santo mia madre Gesù nei Vangeli Apocrifi e voi dite ma non sono canonici ho capito però in ebraico è così quindi questa sovrapposizione questa sovrapposizione che c'è tra la madre naturale che ha fornito il patrimonio genetico all'ogos per l'incarnazione e quella invece che guardate vi cito padre Massimiliano Colbe il più grande mariologo che vorrei citare con un cattolico si alzi in piedi definiva lo Spirito Santo l'immacolata concezione ad intra dicendo che la vera madre di Dio è lo Spirito Santo quindi e vi ho citato padre Massimiliano Colbe non vi sto citando l'ultimo protestante della strada eccetera chiaro quello che troviamo magari a Gerusalemme il Kotel quindi tagliando quella radice dove è la figura femminile e allora nasce la prima eresia grande grandissima in Siria l'eresia colliridiriana che erano quelli che adoravano Maria adoravano Maria come la regina del cielo voi sapete Geremia neanche lui vi stava via spiegare sì eresia condannata dalla chiesa ovviamente d'Oriente ma che poi piano piano attraverso il mito della madre terra e della madre e della dea madre si è sovrapposta avendo tagliato la ruach perché è la ruach che scende su Maria non è la dea madre è vero? oh là e quindi è venuto lì fuori il problema del culto mariano e oggi Gesù è un figlio piccolino in braccio la dea madre ed è non sto scherzando è al quarto posto dietro padre Pio giusto e al secondo c'è Sant'Antonio di Padova Gesù è al quarto posto è al quarto e al quinto posto sì non sto scherzando no 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 è purtroppo ma sono dati sociologici e sono indagini quindi spero di aver risposto cioè il culto della Madonna è nato è nato da quello perché siamo partiti già dicendo che lo Spirito Santo non è se il padre genera ab eterno lei ha in gestazione ab eterno il logos questo è il problema e poi il mito della madre terza eccetera ok ecco grazie questa è una delle conseguenze della perdita delle radici ecco qualche deviazione qua e là ecco qualche malformazione e non diciamo nient'altro allora pastore Luca se puoi attivare il microfono ci puoi fare tu una domanda Luca Marino buonasera a tutti pace è un piacere vedervi ed è anche un piacere poter approfittare di questa conoscenza per approfondire le nostre radici è bello credo cercare di capire davvero da dove veniamo e qual è la radice della Chiesa Cristiana e sono contento di queste iniziative particolare Alessandro per tutte le iniziative che stai portando avanti ultimamente non è proprio una domanda la mia quanto una constatazione in effetti ci rendiamo conto generalizzo un po' di quanta ignoranza ci sia nelle nostre Chiese relativamente alle nostre radici e soprattutto al dialogo con con i giudei con gli ebrei con la cultura giudaica nei tanti alcuni viaggi che abbiamo fatto in Israele una delle esperienze che abbiamo fatto con una guida che poi tra l'altro è Ornat Alessandro una persona non so chi la conosce una persona eccezionale molto approfondita nella cultura ebraica perché è un ebrea e anche nel cristianesimo ricordo un'esperienza fatta con lei c'era una credente del nostro gruppo una signora anziana che cercava di evangelizzarla questa Ornat parlandole del Signore e le diceva ti devi convertire ti devi convertire e questa guida questa signora la ascoltava con molta pazienza finché un giorno evidentemente la pazienza è finita e le ha risposto casomai sei tu che ti devi convertire perché tu sei una gentile io al massimo devo accettare il Messia quanto sono ebrea e quella espressione ci ha fatto capire quanto lontani siamo dal dialogare anche con gli ebrei poter eventualmente con loro sul Messia eccetera e quindi davvero sono felice di questi approfondimenti perché ci aiutano a a dialogare a interagire anche ad integrare ma nella maniera più opportuna nella maniera corretta quindi grazie era giusto una complessione la mia grazie grazie a te Luca grazie a te è un problema cioè è un problema è una constatazione che facciamo molto spesso quando andiamo in Israele dove organizziamo degli incontri delle conferenze alcune più formali altre più informali con dei fratelli quindi giudei messianici e lì sorge ogni volta questo problema cioè loro non ovviamente non si devono convertire anzi entrano nella pienezza di quello che Dio gli ha dato senza lasciare Walter vai pure no è che hai ripetuto per la terza per la seconda volta gli ebrei messianici allora volevo fare una puntualizzazione sì ci sono gli ebrei messianici o mousiani visto che abbiamo usato questa parolaccia prima non biblica e ci sono gli ebrei messianici che non sono messianici ma sono cioè sono messianici ma sono di fatto ariani perché non sono omousiani allora che se uno mi crede che Gesù sia il messia e non crede che Gesù è Dio incarnato è un testemone di Geova verniciato da ebreo perché perché no mi dispiace perché perché non fai mitzvot da giudeo ed è convinto che Gesù sia il messia e non è non è Dio c'è un problema io sono omousiano e allora quando sento messianico dico sì ma messianico cosa guardate ve lo dico perché io a New York ho avuto in molte chiese andai a visitare Jesus for Jesus ho fatto una campagna intera di un estate di un inverno intero ovviamente alloggiando a casa di mio padre a Brooklyn dove ho visitato queste comunità eccetera e vi posso garantire che c'è da parte nostra cristiano grossa confusione quando vengono evangelizzare le nostre chiese perché alla fine non sai se hai un testimone di Geova travestito da ebreo o c'hai un ebreo davvero che ha creduto in Gesù questo lo devo dire perché è un grosso problema bello grazie Walter grazie grazie Walter ecco e come vedete entriamo sempre di più anche in aspetti geologici allora il pastore Biaggio che mi sa che qua in mezzo a noi è il più giovanotto di tutti da Napoli vero? da Caserta a me è piaciuto a me è piaciuto moltissimo è piaciuto moltissimo il fratello veramente di cuore perché studio la parola di Dio da moltissimi anni dal 1960 e sono felicissimo e amo Israele ho imparato ad amare Israele a pregare per Israele ogni volta che prego ameno alleluia grazie e voglio fare la benedizione in ebraico i ebrecheca adonai ve ish meleka i ebrecheca i ebrecheca i ebrecheca i sa adonai ve nevecheca ve asemleka shalom ameno ameno numeri numeri sei eh do la città ameno numeri capitolo sei yes allora carissimi allora io direi signore vi benedica e vi custodisca alzi il signore il suo volto su di voi e vi faccia grazia rivolge il signore il suo volto su di voi e vi stabilisca la pace ameno ameno e ameno 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 allora visto che lui ha fatto una bellissima benedizione lo ringrazio e qui si vede l'amore di Dio per noi perché in questa berachai in ebraico si vede Dio che ti guarda prima dall'alto ameno 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 ti guarda dall'alto mi sei piaciuto fratello poi ti lascia un abbraccio poi nella seconda berachai ti solleva e ti guarda faccia a faccia ma nella terza berachai è lui che volge lo sguardo a te e ti porta in alto abbiamo un Dio che ci porta più in alto nella benedizione è impossibile pensarlo è impossibile pensarlo e quella berachate che ha detto il pastore dice proprio così ameno bellissimo allora allora Walter io direi che siamo arrivati alla conclusione perché ci hai dato solo un piccolo antipasso e già adesso ci è venuto anche l'appetito vero Paolo? sì sì assolutamente sì noi immaginavamo nonostante queste distanze questi filtri del web dello zoom di chi ci guarda in facebook ci siamo sentiti bene possiamo dire ci siamo sentiti in questa dimensione fraterna dove c'è stato anche un po' della tua testimonianza il fratello Biaggio ci ha anche riempito con questo napoletano con questo accento che ci riempie sempre il cuore e quindi voglio ringraziarvi tutti quanti potete seguire Walter nel suo canale di teologia vero? su youtube sì sì quello che sto tramitendo adesso teologia 1 e sono ben graditi i contributi quello che volete stiamo creando questa cosettina insieme in meno di due anni che siamo partiti c'è saluto Marcos della Remar che ci aiuta con la cristologia ovviamente la Sara nostra collaboratrice ormai collega e insomma poi li conoscete Cesar che fa una grande cosa con l'America Latina e su me c'è tanti altri che non voglio Valeria che si avvicina insomma tanti altri non voglio non voglio dimenticare nessuno però questi li conoscete diciamo magari con molti di loro avete anche contatti personali e quindi stiamo cercando di creare questa cosa poi appena saremo abbastanza strutturati consegnerò le chiavi a loro e io farò qualche comparsata e finalmente potrò godermi la pensione perché il signore ha inventato anche quella nella Bibbia vediamo vediamo comunque Walter allora vedo che qualcuno ha già scritto nella chat io direi se vi è piaciuto questi temi insomma questi questi approfondimenti che faremo iscrivetevi vi faccio anche vedere come si fa potete farlo voi stessi dal sito quindi venite sul sito leterredellabibbia.it andate sullo shop e fate l'iscrizione ad un corso eccolo qua non so se lo vedete iscrizione ad un corso quindi eh chi si vuole iscrivere a questo corso clicca su questo link e può costa 50 euro che saranno usati per finanziare le terre della Bibbia e anche il ministerio di Walter se invece riuscite a mettervi d'accordo tre di voi fate l'iscrizione di gruppo ok per fare la classe a noi ci interessa fare una classe dove possiamo approfondire insieme quindi chiamate due tre esatto esatto viaggio e Stefania sua figlia con con suo marito hanno già con esatto esatto marito di Stefania quindi mettetevi d'accordo e fate quell'iscrizione di gruppo se siete almeno tre se no fate quella iscrizione ad un corso Paolo io vorrevo chiederti se tu potevi pregare per noi questa sera ma solo dopo che Walter ci ha dato un'altra benedizione in ebraico perché adesso vogliamo impararlo no ma guarda che la Birkat Kuanim non c'è una benedizione superiore cioè quando uno gioca il carico di brisco la Beraká di Aronne cosa devi andare a dire io posso solo dire Yavere Keká donna emizione basta cioè più di questi benedichi il signore D'Assio però non davvero la Birkat Kuanim è il massimo dei massimi davvero è non bello ci sentiva ci faceva piacere sentirlo no ma adesso finisco avendo detto Amen alla Beraká del pastore Biagio siamo usciti d'obbligo sì detta più giudaica di così siamo a posto non perché non la voglio fare perché di più cosa dico fatto anche di umiltà se non puoi certo certo allora mi ricordano che ho fatto un'affermazione pubblica di dover continuare nel corso di ebraico biblico che ho cominciato Luca tu lo stai stai andando avanti col corso ci sono ci sono alcuni che che hanno cominciato il corso di ebraico biblico ecco se avete intenzione possiamo aiutare anche in quel senso lì va bene allora se volete riattivare i microfoni facciamo un saluto italiano allora a questo punto lo faccio io? no no ecco chiamiamo in causa i fratelli allora Paolo ci vuoi guidare in preghiera e poi salutiamo Walter chi vuole può ringraziarlo può sì signore grazie per questa serata grazie che abbiamo potuto guardare dentro alla tua parola signore continuiamo di chiederti di guidarci col tuo spirito di continuare anche a formarci e poi secondo il tuo volere di usarci a benedire i nostri fratelli israeli in Italia e chissà altrove signore preghiamo per il tuo popolo israeli per i giudei della diaspora signore la tua benedizione sia su di loro affinché abbiano signore in cuore il desiderio di cercarti di cercare di conoscerti grazie nel nome tuo signore Gesù amén grazie grazie